Brani e canti natalizie all'insegna della condivisione e della continuità tra i diversi ordini di scuola, ma anche un momento di saluto e scambio di auguri tra dirigente, docente, ragazzi e famiglie prima delle festività natalizie. A esibirsi nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Campobasso sono stati i ragazzi e le ragazze della giovane orchestra dell'Istituto Comprensivo Montini, un'orchestra formata dagli alunni del percorso e indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, diretta dalla professoressa Marinella Minelli e dal gruppo delle piccole note, composto dalle classi quinte della scuola primaria, diretto dalla professoressa Vandapetti. È un concerto che in effetti si perde nella notte dei tempi e rispecchia la tradizione ormai trentennale della nostra scuola. Le emozioni e le sensazioni sono veramente belle e tante perché è un momento di incontro fatto da alunni, da famiglie e poi soprattutto in un luogo anche particolare che è la parrocchia. E in effetti sono le tre agenzie formative che si occupano e che prendono e si prendono cura dei bambini. Educare alla musica per costruire la pace è uno degli obiettivi che, con determinazione, continua a essere portato avanti dalla scuola, soprattutto in un momento storico in cui sono in corso terribile e drammatiche guerre. Il messaggio è un messaggio di pace perché educare i bambini alla musica e soprattutto a fare musica insieme significa educare ad un animo buono, educare a saper stare insieme, educare al rispetto. Il messaggio è un messaggio di pace perché educare i bambini alla musica e tutti i bambini alla musica e tutti i bambini alla musica e tutti i bambini alla musica. Grazie a tutti.